Da poco abbiamo pubblicato i risultati del nostro study tour in Europa, nel quale siamo andati a cercare le eccellenze nel settore della tecnologia, della ICT, delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. È una iniziativa che viene da noi, dal Parlamento europeo. L'idea era quella di mostrare che non è solo la Silicon Valley che può dare dei nuovi know-how, dei nuovi knowledgement, delle nuove conoscenze, ma che in Europa anche abbiamo delle imprese molto avanzate. In Europa e in Italia, per esempio, siamo stati nella regione di Pavia, dove c'è questa ottima impresa Facility Life che si pone a livello internazionale e con un ruolo importante anche nel lancio della cultura tecnologica. Ma siamo stati in moltissimi altri paesi e l'idea era proprio, lo ripeto, quella di dimostrare che in Europa, nell'Unione Europea, ci sono delle imprese avanzate che possono insegnare qualcosa e dare delle grandi prospettive per lo sviluppo tecnologico del nostro continente.